e che me sto a lavorare, vedete quando ho cominciato prima a farti vedere, però anzi funzionavi e riuscivo a vedere, allora si è dappiannata la tavola di ligno per far chissoletto ora ho dovuto spostare questa lucetta perché qui c'è qua il palo e ora smonto questa perché mi dà fastidio, era quella che avevo messo per la larga al letto e piano piano vado avanti lo volevo fare che si apriva e si chiudeva, però non lo faccio che si apriva e si chiudeva perché non lo so veniva troppo morbido, non male c'è questa ragazzina, ma la ragazzina ormai è grossa perciò pesa, non vorrei che si rompa per farlo, allora meglio faccio quei quattro stampe che vengono giù e vabbè a tinette andrò a perdere, resterà così, che cazzo che devo fare? che ti devo dire? mi piaceva che si rimontava, però resterà a letto così, poi i pezzi ho verniciati, i zampe ho verniciati e sto aspettando che si asciugo, ne li monto e ci appoggio alla tavola questa qua sopra e vediamo, l'ho fatto, varto 60 cm da letto all'altro, perciò lo spazio che ci hanno per dormire sono 60 cm, io penso che va bene, erano i stessi che c'erano sulla manzarda con l'altro camper, perciò insomma, poi sono pure ragazzino e dai volevo far serio, ma non ci riesco, allora, ora c'è il camper che è tutto un disordine, però è un po' che non lo pio, capite? Siamo stati sulla neve, mamma mia un freddo e ma niente, stavo a fare, faccio conciagli lingua, stavo a fare, mente locale per fare due lavorecchia, allora ho detto, voglio fare letto al castello qua, te mi fie, però me lo sto a studiare che lo posso, come posso pure richiudere e non perdere la dinette, perché perdere la dinette è un peccato, questa te ci metti quando stai dentro, come dopo l'inverno, sei un quattro, i cani, ti metti in là, stai seduto, no? oltre lo spazio piccolo, ricavato, che enorme, no? Questo ho già visto, ma perfeziona pure questo, però, perché ci sono delle cose che non vanno, ma oggi sto a fare un lavoretto, intanto perché c'ho niente da fare, voglio montare il GECO, vedi, mi sono comprato un bel GECO, e lo voglio andare a mettere là, ma ti faccio vedere, eh? io faccio quattro buchetti, perché c'ho paura che qua non vanno sulla vitarella, e il legno comunque lo spacca, capito? allora ho quattro buchetti, ho messo quattro vitarelle piccolette, e se mi fa, come fa? tutta a mano ho scritto, però, eh? e dove? appetiti ragazzo, non pisa niente che cosa è questa? la momessa? mmmh c'è sta, no? c'è sta, no? c'è sta, no? c'è sta, che dici? una po'? figo, no? qua non vado a giro, ma vieno con un marocchino, oh, ammassa marocchino, ma qual è il marocchino? questo è il micro, io e pure stamattina ci ristiamo, eh? ora sono a otto e mezza, mi pare, no? ma dall'altra l'hanno lasciato così, non ho più fatto niente, son manco come era arrivato vabbè, qui ho fatto una modifica, ho dovuto girare la stampa ci ho messo sti rinforzi qua, perché sennò era troppo, troppo moscio invece così ci può dormire pure il cristiano grosso, vedi? il flessere ora ci devo costruire questa, no, piccoletta ci devo costruire qui una spalletta ci devo mettere il bordino qua così qua ora dovete lasci vedere, eh? vabbè, questo ora è storto poi insomma, vabbè così per far carcare il materasso e vabbè stamattina ho deciso di fare il pavimento mettiamo il pavimentino nuovo, vediamo se ci riusciamo vabbè, ci riusciamo già l'ho montata altre volte lo so come si fa però poi se mettiamo sotto e vedremo come viene ti faccio vedere man mano come viene ti faccio vedere e poi ti spiego tutto come ha fatto tutto ciao, andiamo a lavorare, va? però stamattina concludiamo niente che brutta parola, andiamo a lavorare ciao